allora svuota la spesa da euro spin se sono rossa e in costume è perché ha fatto il bagno in piscina e adesso sto registrando di server sono 9 e mezza comunque faccio veloce vi faccio vedere che cosa ho comprato euro spin e di di nos mi sembra un altro supermercato due supermercati però ve li faccio vedere tutti insieme perché se no ciao c'è troppa spesa comunque faccio vedere ho preso questo tacchino a dadini con olive spero che si vede fatto così poi questi qua sono in voltini di melanzana 4 euro e 70 da vabbè non c'è scritto il nome del supermercato comunque questo poi ho preso poi pollo coscia di pollo 9 euro e 19 devo far veloce che si sta squagliando le la roba straccietti coscia pollo 267 poi ho preso questo qua straniero che è credo una pasta tazze fresco bobo qualcosa del genere non so che pasta è un altro straccetti di pollo questo è 286 poi questo per fare il sugo 267 ho preso lo yogurt questo qua per provarlo alla muller lampone melograno poi questo suino fresco 6 euro 06 trita sugo mi sembrano presi 3 non sbaglio poi ho preso questo che tipo un mortadella al pollo però straniero fatto così poi ho preso gli arrosticini spagnoli poi ho preso questi che sono le bombette pugliesi a 3 euro e 51 altri improntini con provola a 3 euro e 28 poi questo salame gigante salame gigante felino felino questo mi sembra 16 euro 87 le girelline 3 ore 24 fatte così ho preso il salame gigante il salmone questo qua questo per mangiare ancora carne trita e poi ho preso questi che sono in tomino ce ne sono più di 10 10 euro e 57 poi ho preso due bottiglie di vino gli stessi che sono pinotte gigi grigio due bottiglie per il lavoro vita snella il terapesca il terapesca poi altro salame questo qua è di milano salame di milano 7 euro 29 poi prezzemolo prezzemolo lo yogurt frutti passiano al lampone lo volevo provare poi ho preso altri due tacchino e pollo poi ho preso il sedano per fare il pollo e altro prezzemolo poi ho preso un'altra confezione di arrosticini poi ho preso salamelle e e e costine per fare la grigliata che abbiamo fatto la grigliata infatti poi sono andate in piscina solo che quello non ho potuto farvele vedere perché appena abbiamo fatto la spesa sabato oggi è domenica per cui calcolate che alla fine l'ho fatta subito senza farvele vedere non potevo fare il video perché era già tardi poi ho preso la salsiccia finocchio questo qua enorme 5 euro 94 allora la roba costa meno però e ci sono anche tante cose sono anche tante cose belle grosse però non è che conviene molto cioè almeno ho provato un po' la carne non è che mi convince non mi piace tanto poi ho preso i tramezzini formaggio e prosciutto 3 ore 32 fatti così confezione di latte un HD mi sembra 2 ore qualcosa e noi voi latte praticamente scremato due diversi per provare poi ho preso questo qui della galbani un chilo di formaggio cioè guarda com'è è grosso poi ho preso due confezioni due confezioni due confezioni di crodino truisse frutti rossi questo è buonissimo per cui sono praticamente sei se non mi sbaglio sì sei di questi ho preso la menta questo qua 5 euro qualcosa ho preso anche questo il tè ai frutti rossi sia freddo che caldo lo puoi fare ed è molto buono sui 2 euro e qualcosa mozzarella di bucala non deve mai fare yogurt muller alla mela lo volevo provare poi ho preso un'altra confezione di pancetta ho preso il briè due confezioni questi qua di peperoni poi per finire ho preso bresaola prosciutto mortadella 2,77 la bresaola 8,12 euro e invece il prosciutto 2,51 queste sono le cose per il frigor adesso metto tutto dentro perché sennò mi si squaglia la roba e vi faccio vedere quelle fuori che non vanno dal frigor perché non potete immaginare quanta roba c'è mi stavo dimenticando di farvi vedere i surgelati ho preso il latte intero questo qua da provare poi ho preso la marmellata di fichi che volevo provare anche questa qui e poi ho preso i pomodori secchi un bel barattolone che sono a costi poi surgelato invece ho preso la pizza che non mi sa non mi ci sarà freezer adesso tirerò via la scatola per forza questa qua grande poi ho preso lo scoglio su quello scoglio ho preso due confezioni i gambi argentini due pacchi di spinaci poi ho preso altre pizze uno salame ah no due salame perché siamo in due allora giustamente ho preso due e poi per finire un saccone grosso di patatine e i biscotti questo è qua il gelato questo lo devo mettere subito in freezer perché sennò mi si sbagliano poi ho preso due ho una cassetta di insalata 4,35 euro poi una cassetta di pomodolini questa qua 9 euro qualcosa che ovviamente ho diviso con i miei perché tutta sta roba sarà difficile però costava meno l'ho presa e poi 10 euro di cassette di zucchine poi ho preso tre di profumatore della Glade una la vaniglia una la lavanda alloy e l'altro jasmine che sono ricariche e poi altre ricariche quello piccolino jasmine e cleon poi ho preso la pasta la pasta 5 kg di pasta spaghetti e altri 5 kg di penne per un bel po' saremo a posto altri sacri patatine due pacchi per l'aperitivo se per caso arrivano gli ospiti poi pamboletto ne ho presi due due pamboletto ecco le carote per fare il sugo che devo mettere via le banane fagiolini scusate questo casino fagiolini fagiolini aspetta non lo so altro pacchetto di fagiolini e un altro pacchetto di fagiolini e un altro pacchetto in questo sacchetto ho che la maggior parte l'ho svuotati la merenda al cacao queste qua per colazione quando continuo veloce per andare al lavoro dato che non riesco mai a fare colazione e altre patatine cacio e pepe cacio e pepe questo questa è la spesa in teoria vi ho fatto vedere tutto non dovrebbe mancare niente tutta la cacao tutte le altre cose non l'avete vista perché giustamente ho fatto la grigliata e io non ci vedo più perché mi devo ancora fare la doccia e poi c'era anche il maialino poverino sono un po' rimasta così così quando l'ho visto credo che vi ho fatto vedere con tutta la spesa almeno spero erano due supermercati diversi comunque eh vi lascio qua il nome del secondo supermercato perché non me lo ricordo ehm totale ho uno scontrino l'altro non so dov'è l'altro quanto è che ho speso? 200 236 invece l'euro spin 94,55 per cui alla fine arriviamo sempre a 300 euro e qualcosa al mese quando andiamo a spendere però dico che la le cose che compriamo almeno tre settimane ci durano per cui almeno quello l'altro scontrino non so dove è andato ah è finito in macchina comunque vabbè poi ve lo farò vedere in un vlog semmai niente detto questo ci vediamo al prossimo video perché poi devo registrare altri due video questo video di sicuro lo vedete più in là dopo la pausa di youtube dopo le due settimane di youtube perché oggi è il 16 che è domenica 16 luglio è domenica voi lo vedete forse la prima settimana di agosto questo video probabile dopo la pausa detto questo ci vediamo al prossimo video ciao